Ma che cazzo Ma Ma No, sto impazzendo C'era un maiale Cosa stai pretendendo da me, io non Quante armi hai, Andre? Tre Viva Sono quelle tre armi Sono incredibile E' ineluttabile Mi stiamo già vendendo No, ma non si fa così però L'ho ucciso, sono mostruoso Vabbè vorrà dire che io distruggo la vendita Però ci sono a mente e non mi vedrai mai col Non ti preoccupare, ci sono io con la mia pistola mitragliatrice Ma ciao Pistola mitragliatrice Capovia subito Adesso vengo lì e ti do un'arma decente per la morte al cielo Grazie Andre mi stanno sparando, fai qualcosa Andre fai qualcosa con la tua pistola mitragliatrice Posso raccontarvi un aneddoto divertente? Ho paura Se include la tua pistola mitragliatrice allora si Non ti sparo tranquillo Allora Leo Non spararmi Non spararmi Di perdere 4 a 1 in una battita da solo Germani Non era 4 a 1 5, ah no era 8 a 1 c'è ragione Ah si Hai perfettamente ragione Muoviti Muoviti Avete visto la foto di Salvini che Lei neve c'è la ragazza che io li mando a comprare Cos'è successo? Non spararmi con la pistola mitragliatrice La mia pistola mitragliatrice Ma che triste questo camion Non c'ho vita per l'amor del cielo Il veicolo che ho comprato aspetta lo chiamo La mia pistola mitragliatrice No la pistola mitragliatrice no La pistola mitragliatrice Sto morendo Sto morendo Sto morendo I proiettili della pistola mitragliatrice Sono troppo forti Eh quanta gente Però adesso li devo ricomprare Non spararmi che veramente muoio Un proiettile muoio Eh perchè la pistola mitragliatrice ti ha ridotto È troppo forte Merf Merf Oh! Oh! Aaaaaaah! Allora capsa domanda La pistola mitragliatrice Mi hai fatto i complimenti Appi di merda Appi di merda Assis Ho fatto assist Sono incredibile Assis Assis della pistola mitragliatrice Ho avuto denaro bonus xd Pistola mitragliatrice Mo t'ammazzo con la pistola mitragliatrice? No per favore Oh se facessimo un deathmatch 2 contro 2? No no Pistola mitragliatrice Arma fissa pistola mitragliatrice Arrivo giù dai cieli Con la pistola mitragliatrice Oh la 10 milioni raga No non voglio essere condannato a mo Andre Nooo E' la pistola mitragliatrice E' la pistola mitragliatrice Andre Nooo Pistola mitragliatrice Nooo Quello di biamma Chi è sto coglione con l'oppressore mecaf2 Ok Adesso ci penso io Dov'è l'uomo con la pistola mitragliatrice? Leo non cominciare Leo cazzo fai Eh scusa 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 Come cazzo quella mecaf2 Raga facciamo il colpo nuovo Si Vai a Leo Leo le ho via Leo le ho via Leo le ho via Si ma prendetevi gli snack e i giubbotti magari Già ce li ho dai Noo pistola mitragliatrice Si Si Sono inedottabile Si Sono inedottabile Ah dobbiamo fa lo stand Dobbiamo fa lo stand Andiamo api Ma sta caricando un attimo Muoviti Allora quanta gente? Dici a sé Oh! 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 E no! E no! E no! Sto a prendere la droga Cianzissimo! Aquaman! Aquaman! E' in acqua E' in acqua Adesso è fortissimo api scappa No è andato Il raffinatore ha rubato E' 581 Che culo Siiii Ho ucciso il raffinatore per prendere i contanti Ah io devo ucciderlo Eh si Eh 500 dollari Bella No hanno ucciso il raffinatore Che schifo Oh my god This is so sad up Ma l'hai chiamata la Maryweather Si è inutile Ma non è ancora arrivata Ma mi sa che è arrivata ma tipo Boh No Non ha fatto niente E' diventato il capo di Nancy Siamo tutti Eh si Mi sa di si Ora c'ha l'MC con gli squali Le orche E tutto quanto Io sulla Playstation 3 Non usavo mai l'abilità di Franklin Adesso che sto rigiocando la storia E' facilissimo Usando le abilità Trevor c'era tipo l'abilità Eh Oh I mercenari l'hanno ucciso E' la prima volta che i mercenari fanno qualcosa Ora mettiamo io una taglia Vai Vai mettili la taglia L'est 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 Quanto io la metto? Cazzo ho preso E' il massimo vai Ah io metto 3.000 le taglie Mettili 1.000 Soltanto per Per Antipatia Fastidio si Con la pistola mitragliatrice ucciderò tutti Oh ma che cazzo c'hanno i flare Lo so Io non vado in questo campo da tipo il 2013 C'hanno ancora i peni Eh di fuori? Non so Questo qua no Cazzo sta arrivando Aquaman No Aquaman Sto alla taglia Via Ammazzo Sparali Sparali con la potenza di 1.000 soldi No 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 Adesso esco Esco io di colpo Lo ammazzo E prendi la mia taglia Sì Mi ridai i soldi No Lo sta facendo Facciamone un altro Cazzo Sto prendendo i montanti Porca puttana I montanti Sai cosa sono i montanti bice? Hai messo soldi o Ricerca? Io entrambi Non mi sta ammazzando Salgo sulla sua macchina va No Hai messo soldi o rifornimento? Cioè scusa Hai messo Ricerca che mi sta per ammazzare Appi Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Non volevo Non volevo Ricerca Appi E' inutile i soldi Ma adesso è il nostro amico Invitolo nel motocycle club Ho fatto partire la missione Mi dispiace Come la missione? Ma no ma basta Appi Ma che? Non è neanche a metafora Ma non mi interessa Dobbiamo fare i colpi Si interessa invece Me ne vado Ehm Devi cambiare le sessione se vuoi uscire Si Minchia fino alla guardia Dai dammi una mano fra No Dai fino alla No La regola è che Facciamo uno Basta Via Sparti 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 Cazzo Non è molto stonks Mi sono finito in acqua per amor del cielo Mi sono finito in acqua men Ma vai a cagare No mi sto sparando acqua Distruggi l'auto Eh Eh non si distrugge Ma non esplode sto schifo Ma non esplode sto schifo No stavo sparando ad acqua men acqua men no Scappa acqua men che esplode Acqua men è il migliore Adesso gli mando l'amicizia Thank you Oh ce l'abbiamo fatta Prendi i supplies Per prendi i supplies io invito acqua men in parti Ok Ma sarà italiano boss prima No si chiama acqua men E quindi tu ti chiami green Cosa vuol dire? Puoi essere Christopher Cri è italianissimo Christopher non è tanto italiano Mi sto mandando l'amicizia Christopher che cazzo stai dicendo? Christopher E' inglese Ah punto E c'ha No è tedesco scherzavo Comunque è tedesco ma parla inglese e francese Perfetto E c'ha come immagine di profilo una foto di Fortnite Porco mio Pristo Vai 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 parti Acqua men deve salire acqua No è morta acqua men Cazzo acqua Scappa Prendi i supplies E' inutile E' inutile acqua men Lo Xeno è un gas nobile Cos'è? Eh? Lo Xeno è un gas nobile Lo Xeno? Lo Xeno in teoria è un gas nobile Ah si Come l'elio No Si si Ma cos'è un gas nobile? Gli ultimi elementi della tavola per ora Si ho capito ma perchè è nobile? E' un nome Come Christian No no c'aveva un motivo e te lo studi sta cosa dovresti saperlo Non sto studiando queste cose E' basico appi Sto studiando la pratica non la teoria E' perchè si trova in natura in forma di gas? Immagini si Vabbè ciao appi Cos'è che volevi fare da grande scusa? E' il tuo lavoro Ah ok Ma prima non ritrovamo da qua Io ho la tessera quindi uso io il tastierino di tessera L'ho sfiorato! L'ho sfiorato! Non l'hai sfiorato Non ha visto niente sto stronzo Non ha visto niente Passiamo sotto la telecamera Passiamo sotto la telecamera Senza MP si può fare Attento alla telecamera Due ce ne sono ne vedo un'altra Ah è quella che abbiamo esattivato Sì Vai 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 Ok Attento qua Ma prendiamo l'ascensore? Si prendiamo l'ascensore va Vediamo dove andiamo Che il problema era ascendere l'ascensore qua Chissà Ehm Attiva l'MP adesso Attivo l'MP Abbiamo una polizia veloce Sto attivando Inizio vai 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 Non ci vedono adesso non ci vedono Che viene Come si esce? Qua non iniziamo Da qua da qua da qua da qua Non lo so Andiamo poco da passare da qua Andiamo poco da passare da qua Andiamo poco da passare da qua Vieni Appito che sta andando? Vai 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 Vediamo la cosa che senti tuoni Tuoni Che buono Cosa sta facendo? Carica cazzo Carica Sta arrivando della gente cazzo Carica dai No Dai Oh Dobbiamo aspettare i generatori che cazzo è? Oh Stronzate Mi hanno visto Ah 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 No Ci abbiamo fatto qualche Che io Cazzo Stronzi L'acqua Come sono sto cazzi dai? Un'altra 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 Ma le due A Un'altra Un'altra ma anche le valigie sono piene di neve basta che schifo dammi dammi il cazzo dammi il cazzo mettiamolo in culo vai adesso muoviti